Dall'esperienza immersiva dentro la vita dei pastori geracesi alla scoperta della gastronomia e dell'artigianato locale. Geraci Siculo mette in mostra la sua identità più vera e profonda in occasione dell'evento denominato Geraci Siculo Sicilia che piace. Antichi saperi, scultori, pittori di cibo, musica e legno che da venerdì 27 ottobre a domenica 29 ottobre si svolgerà tra piazza San Bartolo e il convento degli Agostiniani con una serie di stand dedicati all'artigianato, alle mestranze e alla gastronomia locale. Si comincia alle 15 di venerdì 27 ottobre con l'apertura degli stand a piazza San Bartolo che sabato e domenica rimarranno aperti dalle 10 alle 13 e dalle 15 sino alle 18. Tra le esposizioni si troverà il laboratorio esperienziale della costruzione del flauto pastorale siciliano in particolare del flauto zeppato a emissione diretta realizzata a cura del maestro artigiano Giampiero Amato. La mostra è il laboratorio esperienziale della produzione di collari per greggi e mandri al pascolo con incursioni floreali a cura del pastore Nicola Fiorentino. Un altro laboratorio esperienziale sarà dedicato alla produzione di formaggi aromatizzati nonché di creme e saponi. In programma anche il laboratorio esperienziale di decorazione degli agnelli pasquali tipici dolci locali costituiti da un biscotto a forma di colomba che simboleggia il significato della rinascita vita nuova attribuito alla Pasqua. A rendere ancora più ricco e interessante l'evento c'è la straordinaria possibilità di vivere un'intera giornata insieme ai pastori condividendo l'esperienza del lavoro quotidiano del pastore giracese immersi in una sorta di museo etno-antropologico vivente. L'attività è gratuita ma su prenotazione.